Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente Autodesk da adaraarchitettura.com. Aiuto tutti i progettisti a posizionarsi meglio e più velocemente nel mondo del lavoro attraverso corsi di altissima formazione e certificazioni valide in tutto il mondo. Benvenuto nel mio canale YouTube! Voglio darti il benvenuto un po' in questa che è casa mia e spero veramente che in questo canale troverai tutto ciò che ti occorre per migliorare la tua situazione lavorativa attuale. Intanto, per chi è questo canale? Questo canale è per tutti i progettisti, quindi architetti, ingegneri, geometri, già laureati o in corso di ultimazione, insomma, che stanno terminando i loro studi, che vogliono intanto avere delle informazioni che li avviano più velocemente alla progettazione e al mondo del lavoro. Quindi in questo canale trovi dei piccoli argomenti che sono fondamentali per l'inizio della professione e che non ti spiegano all'università. All'università non ti spiegano perché usare una pratica edilizia piuttosto che un'altra o qual è la differenza o che cosa serve presentare, che cos'è un elaborato grafico antepostoperam o una tavola comparativa. Ovviamente se sei un progettista già più con esperienza queste sono, diciamo, cose banali per te. Tuttavia, anche se hai più esperienza, in questo canale troverai delle cose molto molto utili e interessanti. Infatti ti spiegherò come applicare tutte queste cose nella tua professione che già sai utilizzare, ma ti spiego come farle in maniera più veloce, efficace e riducendo l'errore umano. Infatti, dalla mia ho la conoscenza dei software di punta della progettazione e intendo trasmetterti tutti quei trucchi e quelle scorciatoie che ti permettono di fare il tuo lavoro, farlo bene, ma soprattutto farlo velocemente senza tralasciare nulla. Spesso sentire velocità e qualità insieme nella stessa frase fa un po' stonare perché tutti pensano che o sei veloce o dai un lavoro di qualità. In realtà questo dipende e dipende soprattutto dagli strumenti che utilizzi. Io qui ti insegno a utilizzare i software al meglio, al top e non da autodidatta, ma ti insegno tutti quei trucchi che non trovi andandoti a cercare video su YouTube. Quindi ti insegno come utilizzare i software, in particolare i software di disegno, rendering e progettazione BIM, che ormai è alle porte, ti insegno ad usarli al meglio delle loro potenzialità e quindi anche a velocizzare tutti gli aspetti che riguardano il tuo lavoro. Perché un progettista non deve perdere tempo a disegnare, ma deve investire il suo tempo nella sola progettazione. Ecco perché deve essere fondamentale avere a disposizione dei software che ti permettono di un po' di fare una parte del tuo lavoro e così tu puoi concentrarti su quella veramente importante che è appunto la progettazione. Quindi questo canale è aperto a tutti i progettisti che vogliono migliorare ed essere più veloci senza rinunciare alla qualità, rimanendo sempre aggiornati riguardo le normative vigenti in fase di progettazione. Se hai interesse quindi nel migliorare, ma soprattutto nell'avere un vantaggio competitivo sui tuoi colleghi, perché diciamocelo, i colleghi sono anche dei concorrenti al nostro lavoro. Tu devi posizionarti e posizionarti in alto e più velocemente e meglio rispetto ai tuoi colleghi, perché il committente deve poter scegliere te attraverso il fatto che tu trasudi conoscenza, consapevolezza, ma soprattutto deve capire che tu sei capace di fare ciò che lui desidera fare al suo progetto, a casa sua, al suo albergo, a quello che sia. In maniera veloce e con un livello molto molto alto. Ti do quindi ufficialmente il benvenuto nel mio canale. Iscriviti subito per rimanere sempre aggiornato sui video che produco ogni settimana. Metti un like alla mia pagina Facebook e vai a visitare il mio sito www.adararchitettura.com, dove trovi tutte le informazioni sui corsi e certificazioni a livello internazionale che tengo e che sono disponibili già da ora. Non esitare oltre e vai subito a visitare il mio canale YouTube. Io ti saluto e ti auguro una splendida giornata. Ciao!